Ultima gara per questo terzo trofeo Forneria GF Partono gli atleti della categoria G6 seconda batteria Rodengo, Monteclarense, Bornato, Capriolo e Valle Sabbia Le maglie sulla testa del gruppo Continua la calma nel plotone Ci stiamo avvicinando al traguardo E probabilmente assisteremo ad un arrivo a ranghi compatti E nella volata finale ha la meglio Multari Manuel della Mazzano Davanti a Cima e Medio della Monteclarense Zanni Simone della Valle Sabbia, Pontempi Luca e Giustacchini Dalio De Rodengo Saiano La Valle Sabbia, Pontempi Luca e Giustacchini Dalio Show me how you do that trick The one that makes me scream, he said The one that makes me laugh, he said And threw his arms around my neck Show me how you do that trick Show me how you do it And I promise you, I promise that I'll run away with you I'll run away with you Spinning on that dizzy edge I kissed his face and I kissed his head And dreamed of all the different ways I had to make him glow Why are you so funny?